Hi everybody! Ciao a tutti! In front of us the Balos beach and the Balos lagoon. Vediamo davanti a noi la spiaggia di Balos e la laguna di Balos. This beach is one of Crete's most caratteristic and well-known beaches and is worth at least one visit. Questa spiaggia è una delle spiagge più caratteristiche e conosciute di Creta e sicuramente vale almeno una visita. A strip of sand is placed between crystal clear sea water and a lagoon, the Balos lagoon. Una striscia di sabbia posta tra un mare cristallino ed una laguna, la laguna di Balos. This beach is suitable for those who like to walk in the water as the sea is very shallow and you can walk for a long time before swimming. Questa spiaggia è adatta a chi ama camminare dentro l'acqua in quanto l'acqua del mare è molto bassa e puoi camminare per molto prima di dover nuotare. Come puoi notare questa spiaggia però non si trova vicino al centro abitato in quanto rimane in una zona isolata. So, there are some questions that we want to find an answer to in this video. Quindi ci sorgono alcune domande a cui vogliamo trovare una risposta in questo video. Are there some beds and umbrellas on Balos beach that can be rented? Ci sono i lettini d'umbrelloni alla spiaggia di Balos da potere noleggiare? Is there a bar? C'è un bar? Are there toilets? Ci sono i bagno WC? How to get to Balos beach? By boat? By car? Come arrivare alla laguna di Balos? In barca? In auto? Let's start by answering to the simplest questions. Iniziamo a rispondere alle domande più semplici. Are there some beds and umbrellas on Balos beach that can be rented? Ci sono i lettini d'umbrelloni alla spiaggia di Balos da poter noleggiare? Yes, there are some beds and umbrellas, but they are not reservable. Sì, ci sono, ma non sono prenotabili. How does it work then? Come funziona allora? As usual in Crete, if you find available some beds, you have to occupy them and then the attendant comes to you for the payment. Come di consuetudine a Creta, se trovi un posto libero, devi semplicemente occuparlo e l'addetto viene poi a chiederti il pagamento. Is there a bar? C'è un bar? Yes, there is a small bar on Balos beach. Sì, c'è un piccolo bar sulla spiaggia di Balos. However, I recommend you bring your lunch, if possible. Io consiglio comunque di portarsi il pranzo, se possibile. The supermarkets in Kisamos sell the same prepackaged sandwiches you can find on the beach or in the services on the boat to Balos. Nei supermarkets di Kisamos vendono gli stessi panini confezionati che trovi poi sulla spiaggia o nei sales services delle barche per Balos. Are there toilets? Ci sono i bagni ovecì? Yes, there are toilets in Balos, but they are against the fee. Sì, a Balos ci sono i servizi igienici, ma sono a pagamento. Now, let's answer a question everyone has to ask before coming to Balos. Adesso rispondiamo ad una domanda che tutti si devono opporre prima di venire a Balos. How to get to Balos beach? Come arrivare alla laguna di Balos? By boat or by car? In barca o in auto? Let's see together some aspects of the two options. Vediamo assieme alcuni aspetti delle due opzioni. A good option to reach Balos beach is by boat, thanks to the boat tours from the port of Kisamos. Un'opzione molto utilizzata per raggiungere la spiaggia di Balos è quella di imbarcarsi dal porto di Kisamos su una delle barche che vanno a Balos. You can get to the port of Kisamos by bath, taxi or car. Puoi raggiungere il porto di Kisamos in autobus, taxi o auto. Since Balos is a famous beach. Several organized tours leave in the morning from the main towns of Crete and take you by bus to the port of Kisamos. Essendo Balos una spiaggia molto famosa, ci sono diversi tour organizzati che partono la mattina dalle principali località di Creta e ti portano in autobus qui al porto di Kisamos per poi andare a Balos. You can also use a taxi, but the best option to get to the port of Kisamos is by car. Puoi anche usare un taxi, ma l'opzione migliore per raggiungere il porto di Kisamos è l'auto. The car parking is big, free and close to the ticket office and boats. Il parcheggio è ampio, gratuito e vicino alla biglietteria e dalle barche. You can buy the boat tickets directly at the port or online in advance. I biglietti per le barche possono essere acquistati direttamente al porto oppure in anticipo online. Do the boat tours go directly to Balos? Le barche vanno direttamente a Balos? The tours to Balos include more than just Balos beach. I tour per Balos non comprendono solamente la spiaggia di Balos. Depending on the departure time of your boat, you may go first to Granvosa Island and then to Balos or vice versa. A seconda dell'orario di partenza della tua barca, potresti andare prima all'isola di Granvosa e poi a Balos o viceversa. An advantage of choosing the boat to go to Balos is that in this way you also go to Granvosa Island. Un vantaggio di scegliere la barca per andare a Balos è proprio che in questo modo vai anche a Granvosa. On Granvosa Island you can relax on the Granvosa beach and swim. Sull'isola di Granvosa puoi rilassarti sulla spiaggia di Granvosa e fare una bella nuotata. Oppure puoi visitare la fortezza di Granvosa. Oppure puoi visitare la fortezza di Granvosa. Un altro vantaggio di scegliere la barca come mezzo per andare a Balos è che in questo modo puoi ammirare la scogliera del promontorio e penisola dove si trova la laguna di Balos. Un altro vantaggio di scegliere la barca che include Balos è il tempo limitato a Balos beach. Uno svantaggio dei tour in barca che includono Balos è che il tempo di sosta alla spiaggia di Balos è limitato. In questo tempo limitato devi poi includere anche il tempo di sbarco. ed imbarco sulla barca, oltre al tempo per trovare un posto libero su una spiaggia che nei periodi di alta stagione potrebbe essere già affollata. E se invece della barca vogliamo scegliere l'auto? Se vai in macchina puoi passare tutto il tempo che vuoi sulla spiaggia di Balos, ma andare in macchina alla spiaggia di Balos è una vera avventura. Assicurati di avere un'auto adatta alla strada sterrata per la spiaggia di Balos e con un'assicurazione completa. In Kisamos puoi anche noleggiare una jeep per un solo giorno. Com'è la strada per Balos? Com'è la strada per Balos? La strada per Balos è asfaltata solo nella prima parte, perché la maggior parte della strada è strada. La strada per Balos è asfaltata solo nella primissima parte, infatti la maggior parte della strada è sterrata. Per andare sulla strada sterrata per Balos bisogna pagare un biglietto di accesso per ogni persona. La strada per il Qucia si non è all'entrata per la strada in segomma... ...sai do metno. La strada per la strada. ...e la strada per la strada 피�нулiertate in segmbadi. Sì, sì, sì. c'è la capra davanti c'è la capra c'è il caffè c'è la capra c'è la capra c'è la capra Grazie a tutti. 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 This beautiful view is one of the advantages of coming to Ballos Beach by car. Questa bella vista è uno dei vantaggi di venire alla spiaggia di Ballos in auto. Another advantage is that you can enjoy Ballos Beach at times when it is not too crowded yet and it's not overrun by the people who come by boat. Un altro vantaggio è quello che puoi godere della spiaggia di Ballos negli orari in cui non è ancora troppo affollata e non è presa d'assalto dalle persone che vengono in barca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La risalita è infatti lunga e faticosa, specialmente se fatta nelle ore più calde della giornata. Non è comunque un'impresa impossibile. Se hai bambini abbastanza piccoli devi calcolare che molto probabilmente dovrai aiutarli a risalire o portarli in braccio. Buongiorno. 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 Buongiorno.